Con il mister Cappellacci affrontiamo un po' quelli che possono essere gli argomenti che accompagneranno questa settimana che porta al derby, un derby che è una partita qualunque secondo il mister del Teramo o è una partita particolare? È chiaramente particolare perché è una stracittadina Magari è vero che tempo fa nessuno si aspettava il Teramo in questa categoria e magari nessuno si aspettava il San Nicolò in questa categoria e con questa forza quindi oltre ad essere un derby a tutti gli effetti diventa ancora più interessante perché si affrontano due squadre che hanno dimostrato fino adesso di avere dei valori e quindi forse la sorpresa in questo momento è il San Nicolò però più che una sorpresa mi sembrerebbe una squadra che invece ha dei valori veri sta facendo bene e sicuramente continuerà di questo passo È una squadra di San Nicolò che ha una grande forza d'urto offensiva è solo quello l'aspetto che il Teramo può temere o sul quale deve lavorare o ci sono altre situazioni che comunque vi possono creare delle insidie? A parte le insidie ce le hai in tutte le partite questa particolarmente perché tu dici che il San Nicolò probabilmente perché segna anche tanto è forte nel reparto offensivo ma io vedo una squadra solita in tutti i reparti dove è vero che concede qualcosa ma propone anche tanto poi è ben organizzata, corre insomma fino a questo momento per quello che ho visto io è una squadra di valore Sul campo si è detto che con il Miglianico ha inciso il campo di Martinsicuro molti lo hanno pensato, molti lo hanno detto inciderà l'Adriatico-Cornacchia di Pescara che ha dimensioni notevolmente superiori rispetto a Martinsicuro? Poi si può dire tutto perché se noi avessimo vinto col Miglianico e avessimo fatto la partita che magari in altre circostanze ci è riuscita non stavamo neanche a parlare del sintetico o del campo piccolo o grande quindi conta poco conta come affronti la partita come va la partita perché a volte gli episodi condizionano 90 minuti di partita e che giochiamo su un campo o sull'altro cambia poco però è anche vero che per le nostre caratteristiche soprattutto perché siamo una squadra di vertice che più delle volte deve tentare di fare la partita e giocare su un campo grande o su un campo buono a noi fa comunque piacere Per chiudere, l'ultimo precedente di Cappellacci allo Stato Adriatico-Cornacchio non è stato positivo allenatore della Valle del Giovenco finì 1-0 Cosa ricordi di quella partita e se magari invece precedenti esperienze sono state più proficue? Beh, a Pescara ci è giocato tanto da giocatore da allenatore chiaramente non perché bisogna fare categorie alte per giocare all'Adriatico però due anni fa o tre mi sembra stavamo in C1 io ero appena stato preso dopo l'esonero di Perrone quindi ho fatto la prima partita a Pescara abbiamo perso 1-0 ci siamo difesi come potevamo e poi invece abbiamo preso gol speriamo che non si ripeta la stessa storia anche perché poi sono campionati diversi e strutture diverse in questo momento e quindi questo è un ricordo che lasciamo stare grazie a tutti grazie a tutti